Un altro caso di presunta mala sanità si è verificato a Modica, all'ospedale maggiore. Una donna è deceduta dopo essere stata rimandata a casa. Intanto anche un uomo sarebbe morto per cause di mala sanità. È stata sequestrata dalla polizia locale di Modica un'azienda zootecnica. Sanzioni combinate di pari a 12.000 euro. I controlli continueranno in tutto il territorio. Il Movimento Riscatto Sicilia ha deciso di far approdare in prefettura la protesta degli operatori del settore agricolo. Una delegazione ha presentato al prefetto la gravissima situazione fatica. Un garage è stato trasfermato in civile abitazione. Il caso arriva da Via Archimede a Ragusa. La polizia municipale ha già chiesto di smantellare quanto fatto. Un caso singolare di cui si stanno occupando le forze dell'ordine. 16 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con una nuova edizione del nostro telegiornale. L'avete ascoltato dai titoli. In apertura parliamo di un presunto caso di mala sanità che arriva da Modica, nello specifico dall'ospedale maggiore dove una donna è deceduta dopo che è stata rimandata a casa. Già i carabinieri hanno sequestrato i referti. Si tratta di una donna di Pozzallo. Ci racconta tutto Viviana Sammito. Lunedì 13 giugno, ore 19 circa, Mario Chipinti, una 50 sognone pozzallese, va al PTE, presidio territoriale di emergenza Pozzallo, dopo aver accusato dolori addominali. Poco dopo i medici consigliano alla donna di farsi visitare al pronto soccorso, all'ospedale di Modica, dove dopo una serie di analisi viene dimessa. La diagnosi è colica renale. Tutta la notte la donna riesce a sopportare il dolore a causa dell'effetto dell'antidolorifico iniettato con la flebo, ma la mattina la sofferenza peggiora. La donna chiama l'ambulanza del 118, ma l'ospedale non ci arriva. Muore durante il tragitto, intorno alle ore 14 di ieri. Da un primo accertamento i medici scrivono per hemorragia cerebrale. I familiari increduli vanno in procura a presentare un esposto. I carabinieri di Modica questa mattina hanno sequestrato i referti e hanno parlato con la direzione sanitaria. Dalla documentazione non risultano, secondo quanto hanno riferito gli investigatori, esami approfonditi. La donna dunque non sarebbe stata sottoposta ad una radiografia o attacca l'addome, ma solo a un prelievo di sangue. La salma rimane nella camera mortuaria del nosocome a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il pubblico ministero di turno, Valentina Botti, si è riservata la nomina del medico legale per l'autopsia, ma sarà questione di ore. È morto ieri intorno alle 14.30 sul posto di lavoro uno ciclitano di 52 anni, Carmelo Trovato, dipendente dell'ufficio delle Dugane, a Ragusa. Stava parlando con i colleghi, aveva pranzato e poco dopo ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Non c'è stato nulla da fare, hanno provato a rianimarlo, ma era già cadavere. Arrivato il 118, i medici hanno constatato il decesso. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. La salma è stata trasportata all'obitorio del cimitero di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'ispezione cadaverica. Il decesso sarebbe sopraggiunto per una aneurisma. Questa mattina la salma è stata consegnata alla famiglia per le esequie. Un'azienda zootecnica nel territorio modicano è stata sequestrata dalla polizia locale per violazioni in materia ambientale. Stazioni combinate per 12.000 euro. Sentiamo. Una multa di 12.000 euro ai danni di un 59enne proprietario di un'azienda zootecnica nel territorio di Modica è stata combinata dalla polizia locale nel corso di servizi di controllo del territorio in sinergia con la sezione viabilità alla polizia giudiziaria e veterinari dell'ASP 7 di Ragusa. L'azienda, ereditata dal padre deceduto, è stata sequestrata mentre il titolare è stato deferito alla procura della Repubblica per reati attinenti alla violazione del testo unico in materia di ambiente. L'uomo ha presentato solo alcune delle autorizzazioni richieste dalla polizia locale. Da controlli più approfonditi, è emerso che due vitelli si trovavano rinchiusi in un cortile adiacente e su pavimentazione in cemento mentre i liquami della vicina stalla ricadevano all'interno di un pozzo trivellato che confinava con una concimaia. Un'altra concimaia invece aveva il percolato che si infiltrava in un terreno dove erano coltivati ortaggi e con una distanza di circa 20 metri dal pozzo dell'acqua. L'uomo non è stato in grado di fornire alcuna certificazione in merito alle autorizzazioni per il pozzo e per la concimaia. La polizia locale dunque ha visionato tutti i fascicoli relativi all'azienda riscontrando violazioni alle norme tecniche imposte dalla regione Sicilia e in particolare non era stato comunicato al sindaco l'utilizzazione agronomica degli affluenti dell'allevamento. Il proprietario aveva effettuato lo stoccaggio dell'etame e dei liquami fuori dall'apposita vasca di raccolta. Dalle indagini è poi emerso che già nel 1993 il genio civile di Ragusa aveva comunicato all'ufficiale sanitario di Modica che i liquami ricadenti nel pozzo creavano pericolo di infiltrazioni nelle falde acquifere. Tra l'altro l'acqua del pozzo veniva utilizzata anche dai familiari per uso domestico ed irrigazione delle colture. Continua la lotta alla droga in provincia di Ragusa. Due gli arresti portati a termine da polizia e carabinieri rispettivamente un accomiso, l'altro a Santa Croce. Un tunisino di 40 anni, Ahmed Salmane, fingeva di passeggiare con il cane nel centro di Santa Croce Camerina ma nel frattempo in realtà contattava e veniva contattato dai clienti per la vendita della droga. Nel suo atteggiamento sospetto si sono accorti i poliziotti del commissariato di Vittoria e della squadra mobile che durante un servizio antidroga hanno effettuato un blitz nella sua abitazione. Il tunisino non ha opposto resistenza e dopo una breve ricerca è stata trovata in diversi punti della casa la sostanza stupefacente oltre ai 60 grammi di hashish. Altra droga è stata rinvenuta all'interno di una giacca nelle tasche dei pantaloni, nel cesto dei pali da lavare e ancora in altri indumenti. Il quarantenne è stato condotto in carcere con l'accusa di detenzioni fine dello spaccio e di sostanze stupefacenti. In questo caso è stata preziosa la collaborazione nei cittadini. Droga in casa è stata rinvenuta nella disponibilità di un comisano di 19 anni, Gianluca Zago che era agli arresti domiciliari dallo scorso 2 giugno sempre a causa della droga. Nonostante la misura cautelare il giovane non aveva perso il vizietto. I carabinieri della stazione di Comiso ieri hanno dunque portato in carcere Zago che ha smesso di beneficiare del regime dei domiciliari così come disposto dal GIP del Tribunale di Ragusa Claudio Maggioni. Zago era stato arrestato insieme con un altro giovane e nel corso della perquisizione personale domiciliare era stato trovato in possesso di oltre 40 grammi di marijuana suddivisi in ben 70 dosi e materiale per il confezionamento. Droga che Zago continuava a possedere a casa sua sicuramente per spacciarla anche se ristretto ai domiciliari. Ancora la cronaca. In primo piano i carabinieri di Pozzallo hanno arrestato un 45enne che si è reso autore di truffa su internet. aveva intascato 300 euro senza mai consegnare i prodotti acquistati dagli acquirenti. Aveva messo in vendita su internet i biglietti di un concerto che erano andati a ruba e quindi introvabili. Un uomo di Ancona aveva pensato di fare l'affare e invece ha scoperto di essere stato truffato. Era il 2009. Adesso il responsabile deve scontare una pena di 10 mesi di reclusione in carcere a Ragusa. E un pozzallese di 46 anni Adriano Scolo raggiunto oggi da un'ordinanza di custodi a cautelare in carcere messa dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. L'uomo aveva intascato circa 300 euro per la vendita dei biglietti ma l'acquirente non li ha mai ricevuti. Pertanto la vittima aveva presentato la querela. Il truffatore è stato condannato votato in carcere e deve anche ottemperare al pagamento di una multa di 300 euro pari alla truffa consumata. A distanza di 7 anni il furbetto del web ha pensato di averla fatta franca ma la giustizia non si è dimenticato di lui e la procura di Ancona non è stata neanche clemente per una truffa di 300 euro è stata imposta la restrizione in carcere dove è sicuro che non li verrà messo a disposizione un PC. A pro dal palazzo di governo di Ragusa la protesta del movimento riscatto Sicilia che vuole tutelare gli interessi degli agricoltori. Una delegazione di quest'ultima è stata ricevuta dal prefetto di Ragusa Maria Carmela Librizi vediamo come è andata. Questa crisi a noi che abbiamo una piccola attività una vendita al dettaglio di frutta e verdura ci ha messo in ginocchio prima riuscivamo anche a pagare quel piccolo debito che si era fatto per costruire una piccola azienda non siamo più riusciti il nostro bene è stato venduto all'asta la legge permette che venga acquistato a un prezzo bassissimo e quindi io nella mia situazione di famiglia anche numerosa avendo 5 figli mi ritrovo con i debiti e senza casa da qui a poco taglieggiati da una crisi lunga e gravissima molti produttori agricoli perdono tutti i loro beni in aste giudiziarie che sembrano favorire non tanto i creditori spesso quasi totalmente insoddisfatti dei loro averi ma mere operazioni di sciacallaggio rabbia angoscia disperazione hanno animato la protesta promossa dal movimento riscatto Sicilia un sit-in di 4 ore stamane ed innanzi alla prefettura con la richiesta di un intervento urgente per porre fine ad un fenomeno non solo di vessazione massiccia di una categoria colpevole solo di essere stata travolta dalla crisi ma anche di allarme e di rischio per l'ordine pubblico noi siamo qui come vedete ci sono anche ragazzini e bambini noi siamo stanchi delle false promesse siamo qui per manifestare il nostro disagio naturalmente siamo una rappresentanza non possiamo essere tutti per motivi appunto di lavoro perché si stanno spaccando la schiena a casa e le donne cosa dobbiamo fare rimanere a casa a fare che cosa niente noi siamo qui a protestare a manifestare noi abbiamo delle proposte che vorremmo fare al governo nazionale purtroppo ancora non si riesce a far insediare un tavolo di trattativa con il governo nazionale ecco il prefetto deve incidere principalmente su questo far istituire immediatamente un tavolo di trattativa per risolvere la crisi agricola che a nostro giudizio risolverebbe anche la crisi generale sono tante le novità per i tributi nella città di Modica soddisfazione stata espressa dall'assessore al bilancio Enzo Giannone IMU bloccato all'8,6 per mille per quanto riguarda immobili diversi dalla prima casa la base imponibile è ridotta del 50% se l'immobile è concesso e incomodato gratuito a genitori o figli che lo utilizzano come abitazione principale il contratto deve essere registrato il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere nel comune in cui ha concesso l'immobile è incomodato per gli immobili locati a canone concordato l'aliquota è abbattuta del 25% sono queste alcune delle novità sui tributi del comune di Modica sforzo non indifferente per l'assessore Giannone che chiarisce che i tributi comunali non subiscono alcun aumento nonostante il taglio e trasferimenti dello Stato tra le novità anche per gli immobili locati a canone concordato l'aliquota è abbattuta del 25% nella nota di Palazzo San Domenico viene evidenziato come le agevolazioni richiedono la presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo novità anche per i terreni agricoli per questi è prevista l'esenzione vigente fino al 31 dicembre 2013 l'agevolazione può essere dunque sfruttata in aree montane o in collina delimitate esenti terreni agricoli utilizzati da coltivatori diretti o IAP per la tasi l'aliquota rimane all'1,85 per mille nessuna tassa sarà pagata sugli immobili in cui risiede per la tassa dei rifiuti è prevista la possibilità di pagare il 60% della tassa rifiuti e fino a concorrenza di 250 euro per nuclei familiari dove è presente un disabile non autosufficiente bisogna tenere conto che i costi sono aumentati rispetto al 2015 dell'11% a motivo di contenziosi pregressi con la ditta che gestisce il servizio ci spostiamo adesso ad Ispica per parlare dell'annullamento della delibera numero 27 del piano regolatore generale soddisfazione viene espressa dal sindaco Pierenzo Muraie che è intervenuto sul lavoro svolto dal consiglio comunale annullata la delibera consigliare numero 27 del 28 aprile del 2011 avente ad oggetto la rielaborazione parziale della revisione del piano regolatore generale ad Ispica a darne notizia e il sindaco Pierenzo Muraie il primo cittadino sottolinea che era un impegno che l'amministrazione comunale aveva assunto con gli ispicesi in campagna elettorale il consiglio comunale si è determinato ad annullare la delibera consigliare dopo che la stessa è stata impugnata innanzi al TAR Sicilia sezione staccata di Catania dopo il ricorso straordinario al presidente della regione Sicilia e il ricorso per motivi aggiunti al TAR un atto di estrema importanza che l'amministrazione comunale dichiara il sindaco Pierenzo Muraie ha adottato prendendo atto della ordinanza del TAR depositata il 22 di luglio del 2011 e dopo aver acquisito il parere generale pro veritate a firma del professore avvocato Giuseppe Berretta l'annullamento consentirà spiega il sindaco Muraie di sbloccare altresì la paralisi che affligge il comparto edile perché verranno meno le misure di salvaguardia il consiglio comunale continua la nota firma del sindaco Pierenzo Muraie ha fatto chiarezza su un atto di estrema importanza e ha deliberato dimostrando di avere a cuore l'interesse della città e degli ispicesi soddisfazione è stata espressa anche per l'operato del consiglio comunale e nello specifico del suo presidente Roccuzzo da parte del sindaco di Ispica Pierenzo Muraie un garage al piano terra di un condominio in Viale Europa è stato trasformato in civile abitazione scoppia il caso in Viale Europa a Ragusa sentiamo l'apparato di vigilanza sul rispetto delle norme che disciplinano la vita di una comunità spesso non riesce ad essere rapido ed anche la repressione di abusi e violazioni attraverso il ripristino di una situazione conforme ai diritti e ai doveri sanciti dalle norme è talmente lenta da frustrare la domanda di giustizia sono i sentimenti avvertiti secondo la loro denuncia che c'è giunta in redazione dai condomini di uno stabile in Viale Europa a Ragusa allibiti e impotenti dinanzi ai comportamenti agli abusi di un inquilino il quale secondo quanto da loro segnalato al prefetto al questore al sindaco e alla polizia municipale ha adibito arbitrariamente ad abitazione con servizi igienici sui locali ubicati a piano terra e da venti invece destinazione d'uso di cantina e garage secondo i condomini non si tratta di un abuso privo di conseguenze per l'intero edificio danneggiato dai lavori di trasformazione del prospetto in cui è stata sostituita la saracinesca da una porta in vetro prospetto che peraltro era stato di recente restaurato e ristrutturato con notevole dispendio di costi da parte degli inquilini l'abuso comprende anche la realizzazione di una tettoia removibile in legno che deturpa gravemente l'aspetto estetico dell'edificio e il suo equilibrio architettonico oggi è scaduto il termine entro il quale l'autore di questi abusi avrebbe dovuto rimuoverli e ripristinare la situazione preesistente ma la diffida della polizia urbana di Ragusa non ha avuto esito e da domani dovrebbero scattare le misure repressive ma l'aspetto più grave del problema lamentano i condomini è non solo la situazione di impotenza ma anche quella di paura per le possibili ritorsioni ad opera della persona denunciata il cui comportamento anche al di là delle stesse responsabilità a lui contestabili in passato è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio appare incontrollabile e quindi fonte di pericolo nessuno vuole inveire e questo è il sentimento dei condomini contro una persona al di là della sua cosciente responsabilità ma le autorità preposte amministrative e giudiziarie dovrebbero essere capaci di non scaricare tensioni paure e pericoli su una tranquilla comunità di cittadini che rispettano le norme e ne chiedono altrettanto rispetto vendita e somministrazione di alcolici ma anche musica nei locali arriva la bella stagione e quindi ci sarà sempre più movita nelle frazioni rivierasche ma anche nelle città di questo si è parlato in prefettura a Ragusa vediamo quanto è emerso le emissioni sonore negli esercizi pubblici la regolamentazione degli orari di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche al centro di un vertice ieri mattina in prefettura Ragusa convocato dal prefetto Maria Carmela Librizi per venire incontro alle esigenze e alla serenità dei residenti nelle frazioni balneari il prefetto ha invitato le amministrazioni locali ad adottare provvedimenti regolamentari che disciplinano gli orari relativi all'emissione e diffusione sonora degli esercizi pubblici saranno anche intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine ed intesa con il personale dell'ARPA disponendo la pianificazione di servizi congiunti da parte delle forze di polizia e locali del territorio con lo scopo di far osservare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni per quanto riguarda poi le diffusioni sonore non devono essere eccessive nelle ore notturne evitando deroghe di orari rispetto alla regolamentazione generale prevista per tutti i comuni blei e per tutta la stagione estiva da che sono qui ho ricevuto tantissime segnalazioni tantissime lamentele da parte di cittadini che chiaramente ritengono sia eccessivo diciamo anche la disponibilità dei vari centri esercizi commerciali oltre orari consentiti quindi si tratta indubbiamente di conciliare quello che è il giusto divertimento estivo la possibilità chiaramente di suffruire di godere di quelli che sono spettacoli ed altre però anche con anche la possibilità per chi deve andare a lavorare l'indomani di poter riposare tranquillamente quindi indubbiamente dobbiamo insistere sugli orari e dobbiamo far sì che quegli orari che sono imposti siano rispettati dopo di noi è legge un provvedimento che riguarda i diversamente abili che restano senza genitori sentiamo i particolari il dopo di noi è legge il provvedimento si occupa di assistenza cura e protezione nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave si definiscono le prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale si istituisce il fondo per l'assistenza e le finalità si prevede la detraibilità delle spese per polizie assicurative il testo regola l'istituzione di trust vincoli di destinazione e fondi speciali e prevede agevolazioni tributarie con 312 voti favorevoli 64 contrari e 26 astenuti arriva il via libera definitivo dell'aula della camera al dopo di noi la proposta di legge che contiene le nuove norme in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare il provvedimento era molto atteso e destinato ai disabili gravi rimasti orfani il ruolo insostituibile della famiglia e dell'autonomia attraverso questa legge sarà tutelato così com'è sottolinea Paola Binetti di area popolare tra i primi proponenti del disegno di legge riguardo alle agevolazioni fiscali per la formazione di trust destinati a disabili gravi durante l'iter parlamentare è stato esteso anche alla costituzione di vincoli di destinazione e di fondi speciali questi strumenti saranno esenti dall'imposta di successione e donazione inoltre è stata stabilita la detraibilità delle spese sostenute per le polizie assicurative per la tutela delle persone con disabilità grave con l'incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per assicurazione versati per rischi di morte sull'argomento il presidente della commissione affari sociali Mario Marazziti ha dichiarato che l'estensione delle agevolazioni fiscali fondi speciali e una soluzione economica 90 milioni per il 2016 circa 38 milioni per il 2017 e 56 milioni annui a partire dal 2018 questa è una legge mette al centro le persone con disabilità grave risponde così ai bisogni e alle preoccupazioni di tante famiglie italiane segna una svolta culturale nel nostro paese conclude Marazziti 36 minuti dopo le 14 c'è la pubblicità ma torneremo subito dopo per parlare di altri argomenti a tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti